La salute della principessa Kate Middleton è stata al centro dell'attenzione mediatica e oggi vi sveleremo tutto ciò che c'è da sapere. Vi siete mai chiesti come sta realmente Kate? William ha finalmente rotto il silenzio e ci ha dato delle notizie importanti. Continuate a guardare per scoprire tutti i dettagli e rimanete con noi fino alla fine del video per non perdervi nulla. Uno degli eventi più attesi dell'anno, la parata militare Trooping the Colour si avvicina. Questo evento festeggia il complesso di Re Carlo e data l'importanza dell'anno per la famiglia reale, l'attenzione dei media e dei sudditi è alle stelle. Molti si chiedono se Kate Middleton apparirà sul balcone di Buckingham Palace, ma quali sono le reali condizioni di salute di Kate? Recentemente, durante un evento pubblico, William è stato avvicinato da un veterano di guerra che G. Lee ha chiesto della salute di sua moglie. La risposta di William è stata confortante. Sì, le sarebbe piaciuto tanto essere qui oggi. Questo commento ha acceso la speranza nei cuori dei sudditi, indicando che Kate sta migliorando dopo l'intervento all'addome per la rimozione di una neoplasia. Non tutti però condividono l'ottimismo di William. Alcuni, come Sly, pensano che la patologia di Kate potrebbe influire sul suo ruolo all'interno della famiglia reale. Attualmente, la principessa Kate sta affrontando la chemioterapia e il suo ritorno agli impegni pubblici è previsto solo quando sarà completamente guarita, probabilmente dopo l'autunno o verso la fine dell'anno. Sabato 8 giugno, durante la prova generale della parata Colonels Review, c'è una flebile speranza che Kate possa affacciarsi dal balcone. Anche se questo è poco probabile, la speranza non deve mai essere perduta. Un ritorno di Kate. Agli impegni pubblici sarebbe una gioia immensa per tutti i suoi sostenitori. Ricordate di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun aggiornamento. Cosa ne pensate delle condizioni di salute di Kate? Scrivetecelo nei commenti qui sotto.